Cari amiche e cari amici, ricordate i mitici Blues Brothers e la mitica frase siamo in missione per conto di Dio? Ebbene, non ci crederete, ma sul decimo toro 2 troverete un'intervista con un frate vero, origine controllata, proprio di quelli col saio vero, con i sandali che va scalzo all'inverno, che segue la regola francescana degli origini, che fonda un partito e mi rilascia un'interessante intervista che troverete sul decimo toro 2. Siamo in missione per conto di Dio, vi lascio il link giù in descrizione e mi raccomando iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo